Il ritorno dell'esercito a Gela potrebbe rappresentare un deterrente irrinunciabile. Rimane vitale il ruolo della famiglia, della scuola, dei centri di aggregazione, ma a tutto questo va affiancata una terapia d'urto in grado di far avvertire la presenza dello Stato ai cittadini sempre più insicuri nei propri spazi urbani e sempre più in tensione, perché non si intravede una soluzione. E quanto sostiene il segretario generale della CGL, Ignazio Giudice, a seguito degli ultimi attentati incendiari che si sono verificati in città e che nella notte tra domenica e lunedì hanno interessato anche il primario del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, Catano Orlando, a cui ignoti hanno bruciato due macchine. Noi pensiamo che sia del tutto anomalo trascorrere ogni notte con le macchine incendiate in un quartiere o piuttosto che in un altro, indissignamente dalla casalinga al professionista. Siccome è un fenomeno che si ripete da anni, credo che anche gli investigatori abbiano le considerazioni dovute che restano loro nel rispetto al loro ruolo. C'è una città insicura, una città insicura allontana gli investitori italiani ed esteri, allontana i sessi ingelesi che hanno perso la serenità da molti anni e non può passare, non ci si può assefare a 60 auto l'anno bruciate o forse anche di più. E siccome stiamo parlando di un'anomalia democratica, rispetto all'anomalia democratica, è chiaro che ci vuole una terapia d'urto, che personalmente individuo nel rivo dell'esercito per avere un maggior controllo del territorio. Giudice, ma così facendo non avremmo una città militarizzata? Noi dobbiamo scegliere di stare con lo Stato o assecondare i delinquenti che ogni notte bruciano le macchine. Siccome mi pare che la maggioranza dei gelesi è persone per bene, ma è in mano di una minoranza fatta di delinquenti più o meno organizzati, noi dobbiamo scegliere di stare con lo Stato. Lo Stato in questa Repubblica è rappresentato alle forze dell'ordine, in questo caso dall'esercito. E non è l'esercito quello che ci ricordiamo più di vent'anni fa, posizionato soltanto nei luoghi della giustizia. Significa per me dare carta bianca a tanti uomini che per lo Stato esercitano il controllo reale del territorio senza arrecare nessuna forma di fastidio o disturbo ai cittadini. Anzi, se il cittadino si sente sicuro sia di notte che di giorno, sarà più sereno e in giustizio sereno poi è capace di investire, non decide di andarsene e la città non avrà anche un arricchimento da questa forma di controllo del territorio.